Save the Queen, la campagna di legambiente che da anni sostiene apicoltrici e apicoltori d'Italia, approda in Maremma. Donate 50 arni a 5 apicoltori della zona colpita dagli incendi della scorsa estate. Dopo i primi 6 mesi del 2022, in Toscana, si stima triplicata la quantità di ettari andati in fumo rispetto al 2021. Ci sono stati questi incendi che hanno distrutto centinaia di ettari. Molti apicoltori sono stati danneggiati in Maremma per dare un segnale, un sostegno. Lo facciamo noi come legambiente insieme a Frosta che appunto sostiene questa campagna e lo facciamo perché pensiamo che gli insetti impollinatori e le api siano fondamentali per la tutela della biodiversità e il ruolo degli apicoltori è un ruolo fondamentale, importantissimo. E quindi che ci sia stato questo grave danno è una dimensione di grande difficoltà che legambiente invece vuole sostenere. Dopo che è successo questo incendio abbiamo perso queste arne, lì è partito un fuoco praticamente da una parte e ha bruciato quasi 16 arne. Le api stanno a contatto con la natura e qui la natura è completamente ribaltata. E anche le api ne subiscono dei danni a livello di produttività del miele. Ci sono nuove malattie, ci sono pesticidi, ci sono appunto gli eventi climatici. Insomma di danni ne subiamo abbastanza. Noi come azienda di trasformazione partiamo dagli ingredienti che la natura ci mette a disposizione e le api hanno chiaramente un ruolo fondamentale nelle produzioni agricole.